Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi stiamo assieme come solito un'oretta. Nella seconda parte parleremo con la dottoressa Antonaglia della struttura complessa di pneumologia dell'acquisizione da parte di Asugi di due polisonnigrafi per la diagnosi delle apnee ostruttive del sonno. Quindi capiremo anche di che cosa si tratta. Comunque parleremo di insonnia a questo punto o comunque delle problematiche collegate a questi argomenti. Io ho sofferto di insonnia quando andavo in università per cui qualcosa magari mi ricordo. Chissà se ha sofferto di insonnia il nostro primo ospite che è Maximiliano Duban, farmacista. Buonasera. Hai sofferto di insonnia? No, devo dire che il mio sonno difficilmente viene scalfito dai problemi. Non so perché è un meccanismo di protezione. Mi difendo. Poi dov'è uno se è farmacista ha anche... No, no, proprio naturale, ma forse un bicchierino. Poi qualcuno è anche vero che dorme con più... Quelli che dicono io appena vedo il cuscino dormo, beati loro, io ho sempre bisogno di un po' di acclimatamento. Allora, dottor Duban, parliamo di questa questione dei tamponi nelle farmacie. Precisiamo che tu lo fai come farmacista privato, insomma, non parli a nome dell'ordine. No, 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 assolutamente. Chiariamo questo. Perché la situazione è quantomeno un po' particolare per certi versi. Beh, diciamo che la situazione è abbastanza confusa in questo momento, almeno dal mio punto di vista ovviamente, perché poi è sempre tutto molto soggettivo. Nel senso che dal momento in cui la legge di bilancio ha autorizzato l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, i cosiddetti tamponi rapidi in farmacia, i test sierologici con prelievo di sangue capillare, demandando a degli accordi regionali, diciamo, l'organizzazione di queste attività, in Friuli, Venezia e Giulia i farmacisti hanno cominciato a, diciamo, rapportarsi con la regione per avere questo tipo di, per iniziare questo tipo di attività. Ne è nato un protocollo condiviso da, tra farmacisti e regione, che però ha una zona d'ombra principale, direi importante, su chi può eseguire questi tamponi. Perché mentre in tutta Italia, ormai, quantomeno nelle regioni più importanti, i farmacisti eseguono questi tamponi, in Friuli, Venezia e Giulia l'orientamento, che non combacia però, secondo me, con quello che c'è scritto nel protocollo, è che i tamponi li possono fare solo gli infermieri. Questo è, diciamo, lo stato dell'arte. In realtà il protocollo recita personale sanitario debitamente formato e autorizzato. I farmacisti sono personale sanitario, tant'è vero che l'azienda sanitaria ci ha vaccinato insieme a medici e infermieri. E' vero che i farmacisti, insomma, debbono e si formano debitamente per eseguire questo tipo di attività. Il problema è chi deve autorizzarci. Cioè, chi deve autorizzare cosa? Deve essere il formatore che autorizza il farmacista a seguito del superamento di un corso, deve essere la SUGI, deve essere la Regione. Quindi, per il farmacista, a questo punto, diciamo così, c'è un unpass. A mio avviso personale, questa cosa, questo problema riguarda tal quale gli infermieri, che pur in qualche farmacia hanno cominciato l'attività, perché ugualmente, a rigore di protocollo, l'infermiere deve essere debitamente formato, che sicuramente lo sarà, ma anche lui autorizzato. La procedura qual è per capire anche che cosa dovrebbe fare chi sarebbe autorizzato a procedere? Cioè, arriva la persona, viene fatta… A Monte la farmacia deve segnalare all'azienda sanitaria l'intenzione di eseguire il servizio, di eseguire il servizio, dichiarando, fornendo una checklist, quindi dichiarando di rispettare tutta una serie di parametri, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista tecnico e ambientale. Quindi dichiarare se farai tamponi, per esempio, all'interno della farmacia, all'interno durante l'ora di chiusura, oppure all'esterno in gazebi etc. Fatto questo, il tampone viene eseguito su appuntamento e la persona arriva in farmacia, deve ovviamente… Chiamando eventualmente la farmacia? Sì, si prende l'appuntamento nella farmacia che… Ecco, non c'è un numero esterno che è poi dirotta alle farmacie, si chiama la farmacia. È un'attività propria della farmacia, prende l'appuntamento, si presenta in farmacia, vengono eseguiti tutta una serie di controlli, febbre, mascherina, sanificazione delle mani eccetera, firma l'informativa della privacy, l'informativa sul tipo e significato del test che sa per eseguire e sul fatto che il risultato di questo test sarà comunque trasmesso all'azienda sanitaria, sia che sia negativo, sia che sia positivo. Dopodiché si fa il tampone, il tampone è una procedura di qualche minuto, come più o meno tutti ormai abbiamo imparato, ma tecnicamente il tampone viene diluito, il materiale che il tampone raccoglie viene diluito in una provetta, questa provetta, alcune gocce di questo liquido vengono messe su una sorta di targhettina e come le signore sicuramente avranno più confidenza in un test di gravidanza, appaiono delle righe che danno sia, conferma che il test è stato eseguito correttamente, sia se appare la seconda riga sulla positività, ci vogliono 5, 8 minuti, 15 minuti a seconda del tipo di test utilizzato. Quindi è una pratica banale, il rischio più grosso è quello di mancare la narice e infilare il tampone nelle occhi a qualcuno. Vuoi essere il mister Magu. Sì esatto, quindi siamo, almeno io personalmente sono abbastanza colpito da questa presa di posizione che ripeto, unica regione in Italia, Alfriuli, Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, in tutte queste regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, in tutte queste regioni il farmacista esegue i tamponi, addirittura sono partiti a settembre, a monte ancora della legge di bilancio, in alcune regioni il tampone viene finanziato dal servizio sanitario regionale, quindi è gratuito per il cittadino, limitatamente ad alcune specifiche situazioni magari. Quindi ci sono regioni in Italia dove il farmacista, tra virgolette, tamponatore ha un ruolo attivo e importante nel controllo della pandemia. Vi è stato in qualche modo spiegato, vi sono state spiegate le ragioni che impediscono che sia il farmacista ad effettuare i tamponi? No, sostanzialmente no, sostanzialmente per quello che posso capirne io, perché questa è una questione oscura anche per i nostri vertici, in quanto a loro ho domandato, ma non mi hanno saputo dare una risposta, viene fatta risalire a un percorso di studi, l'unica differenza, però non è che per infilare un tampone nel naso uno ci voglia con tutto rispetto per l'università una laurea. Potremmo superare per esempio il problema che l'infermiere in farmacia può stare una, due, massimo tre ore, noi siamo aperti 12 ore al giorno, possiamo effettuare tamponi 12 ore al giorno. Poco tempo fa mi assuocera per avere un prelievo a casa da un infermiere aspettato 20 giorni, perché l'infermiere correva come un proiettile per tutte le parti della città facendo cose molto più importanti che fare un tampone, io devo distogliere un professionista da questo tipo di attività per fargli fare tamponi in farmacia, ultima cosa a trovarlo. Perché poi questo è l'altro problema. non è semplice trovarlo, tempo fa parlando con il Dottor Poggiana dell'azienda sanitaria ha detto se ha il nome di un'infermiere me lo giri che lo assumo immediatamente. Ma per esempio le farmacie che al momento hanno aderito, se non mi sbaglio, sono circa 25, quelli erano i dati che erano… Un po' di meno, perché per esempio ci siamo anche noi in quella lista, perché è una lista basata su un'adesione di massima che avevamo inviato diverse settimane fa in associazione prima che sorgesse questo problema, quindi ci sono diversi colleghi che in questo momento sono altrettanto fermi al paleo. E' un numero, diciamo che sono tra 20 e 25 per essere più aderenti alla realtà, è un numero importante o potevano essere di più? Potevano essere tutte, potevano essere 70, ma soprattutto poteva essere un servizio dato nel nostro caso, ma nel caso di tantissime altre farmacie, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, 7 giorni su 7, i tamponi si possono fare per tantissimi motivi, rutinariamente la Slovenia minaccia di chiedere un certificato per esempio per andare di là, uno dei motivi, per esempio, l'amico del figlio, devo togliermi, il mio collega di lavoro, vorrei non stare in ansia. Diciamo la verità, anche noi delle volte per tutta una serie di ragioni ci sono dei momenti anche di stress per dire la verità, perché dici ho visto un mio amico 4 giorni fa, poi ho saputo che il suo coinquilino era positivo, che cosa devo fare, che cosa non devo fare, eccetera. Vuol dire, non è tanto, non è solo anche la questione degli ipocondriaci all'interno dei quali io mi metto, ma è anche poi una questione che riguarda più l'ambiente di lavoro e la famiglia, perché per far star tranquilli i tuoi colleghi e i tuoi familiari è giusto che tu vada a fare il test. Per esempio il fatto di, non so, vado a portare qualcosa alla madre, alla socia, al nonno, voglio essere tranquillo e sicuro di… quindi sono veramente infinite le possibilità, le soluzioni che un tampone eseguito in qualsiasi giorno, a qualsiasi ora in farmacia potrebbe dare. Fatto così, secondo me non raggiunge l'obiettivo di dare un servizio, assolutamente no, ed è anche abbastanza poco gratificante per i farmacisti che tutto sommato vengono considerati professionisti, operatori sanitari solo in certe situazioni, mentre in altre no. No, noi discutevamo di questa cosa, abbiamo parlato al telefono credo la scorsa settimana, e senti che voce cavernosa che mi stava venendo. Sarà a parlare di tamponi. Comunque i gusti e cose li sento perché avendo disinfettato qua con l'alcol c'è un tampo che non avete idea, però perché è sempre più importante procedere con i tamponi? Mi sembra che ti ho fatto anche la domanda al telefono, ma nel momento in cui ci si dovrebbe già concentrare sui vaccini e poi magari potremmo anche affrontare questo discorso, qual è il senso di parlare ancora di tamponi? E tu mi hai detto anche che è importantissimo parlare sempre di tamponi. Dal mio punto di vista il fatto di fare più tamponi possibili quando questo è ragionevolmente giustificato, resta una delle strategie migliori che noi abbiamo per contenere il virus. Posso fare l'esempio di mio più apparente strettissimo che ha avuto il Covid senza avere un sintomo che fosse uno, semplicemente avrebbe girato per città tempestando se per puro caso non si fosse fatto un tampone, tempestando chissà quante altre persone. Ci sono anziani che proprio non ci pensano, vengono in farmacia, un po' di raffreddore, senza avere sintomatologie, ho due amici di 84 anni che hanno appena finito la quarantena, c'è più di un colpo di tosse, pur avendo un'età avanzata. Ci sono tutti gli episodi dei ragazzi a scuola che adesso comincia a essere un problema. Il fatto di eseguire tanti tamponi permette sempre di circoscrivere da un lato e di anche sollevare l'onere intanto della preoccupazione, dell'ansia etc., ma anche di un'inutile quarantena dall'altro. Certo, sì. Una volta, c'è questo se non mi sbaglio anche nel protocollo, una volta saputo il risultato, il risultato negativo deve essere comunicato alla SUGI? Allora, una volta eseguito il tampone, quindi quella tecnica che abbiamo detto prima, l'ambiente deve essere totalmente sanificato, dopo ogni tampone la farmacia è tenuta a sanificare l'ambiente, il che significa che tra una cosa e l'altra non è possibile fare un tampone ogni… ci vogliono almeno 20 minuti tra un tampone e l'altro, perché una qualsiasi… Ah, addirittura? Sì, perché se io devo sanificare un ambiente, le soluzioni correnti, ipoclorito, alcol etc., hanno bisogno sulle superfici di un tempo di contatto di almeno 10-15 minuti, se no è un bagnare, non ottengo il risultato. Quindi non si possono fare più di 3, massimo 4 tamponi in un'ora, questo è un altro motivo per cui estendere il… a meno che non trovi un paziente positivo, perché là a quel punto la sanificazione diventa una disinfezione dell'ambiente, l'operatore deve completamente spogliarsi, sanificarsi, etc., quindi a quel punto credo che per un'ora non si va più avanti, questo è poco ma sicuro. A quel punto ho ottenuto il risultato che il paziente deve aspettare fuori dalla farmacia, questo è un altro punto un po' oscuro, si comunica il risultato, si comunicano eventuali norme comportamentali che la persona deve seguire in tutti e 3 i casi, negativo, dubbio o positivo e poi il risultato viene inserito in un database che a serata viene inviato in azienda sanitaria. Quindi sia che sia positivo, che sia negativo o dubbio. Sono i 3 casi, negativo perché i tamponi rapidi non hanno la sensibilità del tampone molecolare e quindi una bassa carica virale con un contatto avvenuto 2-3 giorni prima può non essere rilevato. Quindi diciamo che nel caso dei tamponi rapidi se il tampone è di qualità, quindi ha quella che si chiama una specificità del 100%, becca solo ed esclusivamente il coronavirus, il positivo è quasi sempre nel 99% dei casi positivi. Il negativo dipende perché potrebbe essere che uno abbia proprio una bassa carica ai microbi, virale anzi nei microbi, in quel momento e il tampone non riesca a... se ha un forte sospetto potrebbe ripeterlo dopo 2-3 giorni. Dubbio potrebbe essere perché in effetti quella famosa linea che deve venire sulla cassettina potrebbe essere talmente pallida da lasciare qualche dubbio che tutto dipende appunto dalla quantità di carica virale che il soggetto esprime. Mi interessava il discorso sulla sanificazione e eventualmente ma anche quello sulla sanificazione perché questo è uno dei punti di rimenti anche per quanto concerne la chiusura e la riapertura eventuale di teatri e di cinema perché anche teatri e di cinema sarebbero comunque obbligati alla sanificazione finito ogni spettacolo. Quindi insomma capite che è un po' complicata la faccenda. Abbiamo anche capito che sanificazione non significa come facciamo noi che puliamo i microfoni, puliamo le tastiere dei computer, i mouse eccetera, è una procedura più lunga e più complessa. La sanificazione è questo, la disinfezione, so che c'è stato un positivo, faccio un esempio, nelle nostre farmacie entrano ogni giorno 50, 200, 300, 400 persone. Noi sappiamo che dal 5 al 10% di queste persone che entrano sono sicuramente positive. Quindi noi ci confrontiamo ogni giorno con 5, 10, 20, 30, 40 positivi, dei quali tocchiamo le ricette, tocchiamo i soldi, le carte, i prodotti eccetera. Noi abbiamo scelto la via di sanificare ogni notte, abbiamo comprato un'attrezzatura apposita, ogni notte la farmacia con ozono, che è un'ottima procedura. Cioè va da sola? Va da sola. Ah ok. Un timer produce ozono fino a saturazione dell'ambiente, in due ore l'ozono si degrada e quindi si riesce a avere una disinfezione che va dappertutto, perché essendo un gas non è una paracchiatura particolarmente costosa, perché poi nella produzione dell'ozono bisogna stare attenti che non si producano altri componenti che possono essere nocivi e questa è la strada che noi scegliamo, abbiamo scelto, perché abbiamo escluso a priori il fatto di sanitizzare e basta. Sì sì ho capito. Perché anche per questo per noi il protocollo prevede che dopo un tampone negativo io debba sanificare l'ambiente. Sì sì. Perché? Sì questo è un po' strano. Dovrei sanificare tutta la farmacia dopo ogni cliente che entra. Vediamo un po' la questione anche vaccini, perché anche lì adesso con tutto c'è un po' di… abbiamo parlato anche ieri con un nostro ospite, quando a dicembre i vaccini sono arrivati con i tir per un paio di giorni, le televisioni generaliste hanno raccontato che tutto quanto era finito, che invece per tutta una serie di ragioni il vaccino resta l'arma, l'unica arma per combattere il virus, però non è che sia tutto quanto finito per questioni logistiche, per questioni di produzione etc. E' possibile che magari quando avremo un numero sufficientemente ampio di vaccini, appunto di sieri, le farmacie vengano in qualche modo coinvolte nella somministrazione, posto che arrivino quei vaccini che immagino non debbano essere conservati nel freddo etc., come la vedi da questo punto di vista? Io personalmente auspico che le farmacie siano coinvolte in questo processo di vaccinazione, voglio ricordare, anche in altre occasioni ne abbiamo parlato, c'è che nel resto, non in tutto il mondo, ma in gran parte dei paesi, soprattutto anglosassoni, il ruolo del farmacista diventa questo, non tanto il distributore di farmaci che ormai è un'attività anche poco dignitosa, non dignitosa anzi per carità, ma non è che dia quella soddisfazione professionale, che si aspetta dalla professione, però la professione del farmacista dovrebbe andare verso quella farmacia dei servizi, che già da anni in Italia è stata definita per legge, che dovrebbe essere proprio il punto sul territorio del Servizio Sanitario Nazionale in cui vengono espletate tutta una serie di attività. Una tra queste potrebbe essere la vaccinazione, spiccando che il farmacista non funga solo da affittacamere, metto a disposizione uno spazio dove qualcun altro viene e vaccina. Ci sono anche qui due problemi, il farmacista innanzitutto deve essere formato per fare un'iniezione, ho fatto il vaccino antinfluenzale per anni e i miei figli non si sono mai lamentati, però è giusto che ci sia una certificazione di una formazione. Anche mio zio che era medico condotto tirava via i denti a mia zia. L'altro aspetto è che effettivamente la vaccinazione comporta l'inoculazione di una sostanza che può dare delle reazioni anche importanti, quindi o in farmacia c'è la presenza di un medico o vengono destinate alla farmacia quelle persone che magari hanno già fatto la prima dose, quindi pensiamo alla seconda rata quando dovremo rivaccinarci in ottobre del prossimo anno, ho già fatto il vaccino, non ho avuto reazioni, posso rifarlo, a questo punto non devo avere un rianimatore al mio fianco, quindi bisognerebbe identificare una serie di situazioni tipo queste, ripeto il farmacista può farlo e sul territorio, in molti casi 7 giorni su 7 e 12 ore al giorno è peccato non approfittarne. Questa vicenda quando sarà una volta finita cambierà quindi secondo te anche il ruolo del, mi pare di capire che tu ti auspichi che cambi, come posso dire che cambi, sì il ruolo del farmacista, che cambi l'utilizzo, forse è brutto dire l'utilizzo, però insomma che cambi appunto il vostro coinvolgimento, dai mettiamolo così, che ci sia un coinvolgimento diverso della farmacia all'interno di un servizio generale? Ma è naturale, la tecnologia ormai fa sì che un medico possa prescrivere, ormai la prescrizione è un elemento, un dato informatico, esistono dei magazzini automatizzati che in presenza di un dato informatico selezionano il farmaco, lo fanno cascare in un cassettino, il paziente ha in mano una tessera con un chip che ce l'ha solo lui e quello e lui e solo lui, non è che ci voglia molto infilare una tessera in un distributore automatico e farsi recapitare dei farmaci, dietro quest'atto per il quale non ci vuole appunto sicuramente una grande scienza, c'è tutta la parte invece della conoscenza di quello che si sta consegnando e dei consigli che la persona chiede eccetera, bisogna andare verso questa parte qua, cioè verso la parte professionale, quindi in molti stati, penso al Canada, penso anche alla Germania, penso alla Scandinavia, il farmacista viene remunerato in base all'atto professionale che svolge, non in base al valore del farmaco che sta consegnando al paziente, ma a fianco di questa attività che possiamo considerare primaria, il farmacista fa delle attività di gestione del paziente cronico per esempio, che sia diabetico, che sia asmatico, non è il soggetto che cura, è il soggetto che segue il paziente attivando dove necessario gli interventi delle varie figure professionali, che siano medici, che siano infermieri, però il medico di base ormai è talmente oberato da attività in gran parte anche nel suo caso burocratiche, che non sempre riesce a fare questo lavoro con puntualità, quindi in altri paesi, penso al Canada per esempio, il farmacista prende in carico il paziente diabetico, sempre dopo un'opportuna formazione, è ovvio, lo vede regolarmente perché in farmacia viene a prendere i medicinali, gli fa delle domande, gli fa degli esami, gli misura la glicemia, gli misura l'emoglobina medicata, la pressione, il colesterolo etc., invia tutto questo a un team di cura fatto da medico, diabetologo etc., e svolge questo ruolo qua, non tanto da terapeuta, diagnosta eccetera, ma da gestore di un paziente cronico. Quasi sul territorio insomma. Sul territorio. Allora, grazie a Messimiliano Duban per essere stato con noi, buon lavoro, dopo la pubblicità continuiamo a parlare di salute, lo faremo come annunciato con la dottoressa Antonaglia della struttura complessa di preomologia.